L'amministrazione comunale da me si sta cercando di arrivare ad una soluzione per il nuovo servizio rifiuti che passi non dall'affidamento in ausa alle impianti SRR ma da una gara. Non c'è ancora il via libera, intanto si cerca di far quadrare il servizio attuale svolto in proroga sempre dalla campana Tecra. Come aveva spiegato il sindaco Lucio Greco, l'assessore Cristian Malluzzo e i funzionari del settore stanno predisponendo una serie di servizi per cercare di migliorare la pulizia in diverse aree della città. Si ritiene che il sistema migliore sia quello di un intervento più capillare con lo spazzamento meccanico. È partito in via Crispi e la prossima settimana si avrà anche a Caposoprano. Si è provveduto anche su un ampio tratto di via Venezia. Si sta comunque predisponendo una suddivisione dei quartieri inquadranti. Settimanalmente si provvederà con lo spazzamento meccanico che viene ritenuto molto più rapido di quello con gli operatori a terra. Sono servizi che non determinano costi aggiuntivi visto che li prevede il contratto. Malluzzo e il sindaco Lucio Greco stanno monitorando l'intero servizio e da Tecra si aspettano il rispetto del contratto. Nonostante i responsabili dell'azienda sappiano di dover lasciare a breve e già da tempo avrebbero voluto congedarsi. Però tante aree continuano ad essere sporche e l'opera di chi abbandona i rifiuti smaltendo illecitamente non smette di preoccupare. L'asse stradale che arriva a Brucazzi è continuamente trasformato in discarica abusiva nonostante gli interventi di pulizia disposti dall'amministrazione comunale. Per Malluzzo è una vergogna. Si sta infatti predisponendo, come spiega ancora l'assessore, un piano complessivo di pulizia della città, anche per interventi in punti strategici. Per Malluzzo però gli incivili sono sempre all'opera. Spiega inoltre che tutta la città dovrebbe indignarsi con aree dove vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo, anche scarti di produzione, pneumatici, arresti vari. È probabile che all'opera ci siano anche abusivi impegnati nello sgomberare magazzini e cantine per poi smaltire in strada o in aree meno battute dai controlli. Sul servizio rifiuti si concentrano tante attenzioni, anzitutto istituzionali. Il nuovo servizio, che sarebbe dovuto partire almeno un anno fa, ancora non ha visto la luce. Il sindaco Lucio Greco è spesso stato molto critico verso la SRR4, arrivando ad un punto di rottura che l'ha indotto a non accettare l'inaus della impianti SRR, che la prossima settimana dovrebbe partire almeno a Butera e Delia.